Mediamente. Quali sono gli aspetti della personalità che si perdono dopo il trapasso nel piano astrale? Commento. Mediamente si perde la relazione sociale fondata sul tempo fisico, le caratteristiche dell'io più grezzo, i corollari più diffusi dell'egoismo, l'emotività che ci lega ai corpi inferiori, il bisogno spazio temporale dell'altro, il diritto di possesso e la gelosia più grossolana. Quella astrale è una condizione che ci apre nella media dei trapassati all'intuito di una coscienza più ampia.